Ciao a tutti, welcome to a new circuit training, 5 exercises, 10 repetitions, 4 or 5 series. Benvenuti a un altro allenamento a circuito, 10 ripetizioni, 5 esercizi, faremo 4 o 5 serie, con 2 minuti di recupero tra le serie. Just watch a demonstration of the exercises, ora guardate solo che esercizi ci sono. Primo esercizio, squat jump, first exercise, squat jump, second plank, elbow to hand, the hand has to go in the place where the elbow was. Passiamo da plank sui gomiti al plank, third Bulgarian split squat, terzo esercizio Bulgarian split squat, col piede sollevato, number four, one leg burpee with a side jump, burpee a una gamba con salto laterale, or if it's too difficult, we do plank jump. Se è troppo difficile, facciamo plank jump. Last exercise, ultimo esercizio, plank and side flex. Iniziamo, let's begin. Exercise number one, squat jump. Una cosciata con saltello. Dieci ripetizioni, ten repetitions. Exercise number two, plank, elbow to hand. We start in plank and then we put the hand where our elbow was. Five with the left hand, five with the right hand. Dal plank sui gomiti mettiamo la mano dove si trovava il gomito e ci alziamo il plank e poi riscendiamo al plank sui gomiti. Cinque con la mano destra, cinque con la mano sinistra. Forza ragazzi, keep it up. Exercise number three, Bulgarian split squat. Squat con gamba dietro sollevata in appoggio. Ten per leg, dieci per gamba. We can do this with a weight or just using the body weight. Lo possiamo fare utilizzando un peso o senza pesi. Keep your balance, keep your torso straight. Mantenete dritta la schiena. Forza ragazzi, almost done with this. And great. Exercise number four. One leg burpee and side jump. We do a burpee with one leg, jump on the side, do a burpee with the other leg. Ten times. Burpee ha una gamba, salto laterale, burpee con l'altra gamba. If it's too hard, we can do plank jumps. We're in plank and we jump the legs in and out. If it's too hard, we can do plank jumps. Exercise number five, elbow plank and side flex. Ultimo esercizio, plank sui gomiti. Flettiamo il ginocchio sinistro verso il gomito sinistro e il ginocchio destro verso il gomito destro. We flex our left knee towards our left elbow and our right knee towards our right elbow. That's the last exercise. That's the last exercise. That's the last exercise. and now we rest two minutes and repeat four or five times bravi ragazzi riposiamo 5 minuti ripetiamo questo per quattro o cinque volte